benvenuti in questa guida top 7 tablet per la scuola di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo toshido tablet 10 pollici 4 grammi questo tablet è una scelta eccellente per la scuola il processore octa core 1,6 gigahertz offre prestazioni veloci e affidabili mentre la memoria ram da 4 gigabyte e lo storage da 64 gigabyte assicurano che tutti i tuoi documenti e file siano sempre a portata di mano punteggio 79 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo samsung galaxy tab s6 lite lavoro e divertimento il samsung galaxy tab s6 lite è un tablet di ultima generazione con un display da 10,4 pollici s pen incluso ram da 4 gigabyte e 64 gigabyte espandibili la batteria da 7040 milliampere ora offre un'autonomia eccezionale mentre android 12 oxford gray assicura un'esperienza utente fluida punteggio 84 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo a oquei tablet 10 pollici bambini questo tablet a oquei è una grande scelta per la scuola ha una buona memoria ram da 4 gigabyte e 64 gigabyte di memoria rom espandibile fino a 128 gigabyte il processore octa core offre prestazioni veloci e affidabili la batteria da 8000 milliampere ora garantisce ore di divertimento senza ricarica punteggio 82 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare toshido tablet 10 pollici android questo tablet è una scelta eccellente per la scuola ha un processore octa core 4 gigabyte di ram e 64 gigabyte di memoria espandibile fino a 512 gigabyte la connettività 4 gl t e wifi offre velocità di navigazione rapida include anche una custodia protettiva mouse wireless punteggio 86 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo samsung galaxy tab a 8 tablet questo tablet samsung galaxy tab a 8 è un dispositivo di alta qualità con un display da 10,5 pollici 3 gigabyte di ram e 32 gigabyte di memoria interna funziona con android 11 e offre un'esperienza utente fluida e intuitiva ideale per studenti e professionisti punteggio 91 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo usia tablet 10 pollici 5 grammi e l'ufficio ottima qualità costruttiva display nitido veloce processore octa core 4 gigabyte di ram e 64 gigabyte di memoria spandibile fino a 256 gigabyte batteria da 8.000 milliampere ora per un'autonomia eccellente include anche una custodia una penna una tastiera e un mouse punteggio 95 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica apple 2021 ipad 102 wifi l'ipad 2021 è un tablet di qualità eccellente il display da 10,2 offre una visione nitida e la connettività wifi è veloce e affidabile la memoria da 64 gigabyte è sufficiente per la maggior parte delle esigenze scolastiche il design sottile e leggero lo rende facile da trasportare punteggio 94 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale